Aaaaaaah! Ma che confusione c'è! Mettete subito in ordine! Nessun problema! Buongiorno signora e benvenuto da Jetmodel. Che cosa voleva comprare? Vorrei una ruspa e un camion. Va bene, arrivo subito da lei. Eccoci qua signore. Allora abbiamo l'escavatore, poi c'è la ruspa, poi c'è il camion. Quale vuole? Questo e questo camion. Ok, va bene. Molto bene, a posto così? Sì! D'accordo, allora ci vediamo presto. Buonasera! Ciao, ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.